Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con incontro con, ospitiamo il dottor Cesare Dalbo, per quasi 40 anni responsabile della radiologia dell'ospedale di Agord, ora direttore sanitario del poliambulatorio Agordino, una struttura sanitaria privata. Ben ritrovato nei nostri studi dottor Dalbo. Grazie e buongiorno ai telespettatori. Allora dicevamo il poliambulatorio Agordino, lei è il direttore sanitario di questa struttura, quando è nato e con quale scopo, con quale finalità dottore? Il poliambulatorio Agordino è nato nei primi mesi del 2015 per la collaborazione di tre soci, uno locale Agordino che ha messo a disposizione lo stabile e due soci bellunesi che avevano già esperienza in questo campo. Nel tempo poi i due soci bellunesi si sono defilati e rimasta quindi in proprietà unico e questo ci ha permesso di prendere decisioni più rapide e più precise. Serto dottore, in questi ultimi anni la sanità privata sta prendendo sempre più piede, quasi una necessità anche per i tempi di attesa, ma all'inizio come è stato? I primi tempi, i primi anni del poliambulatorio Agordino sono stati difficili oppure siete partiti subito bene? Come ogni impresa l'inizio è sempre un po' difficoltoso, teniamo presente che gli Agordini fino allora avevano trovato una risposta ai loro bisogni sanitari nell'ospedale di Agordo che funzionava molto bene. Nel tempo poi gli ospedali di Agordo come tutti gli ospedali periferici sono andati in crisi, per cui le risposte alle esigenze sanitarie dei locali è andate in difficoltà. Il poliambulatorio di Agordo si è posto quindi come soluzione ai problemi del territorio. Certo, quanti professionisti prestano la propria attività nel poliambulatorio e quali sono le principali aree di competenza? Allora guardi, all'inizio i professionisti erano circa una decina, poi nel tempo il numero è aumentato, siamo adesso quasi tra i 25 e i 30 professionisti, tutte le specialità mediche sono praticamente coperte. Si tratta di professionisti locali oppure avete reperito delle risorse sanitarie anche da altre province o da altre regioni? La maggior parte dei professionisti sono medici ospedalieri, medici ospedalieri in attività oppure ex medici ospedalieri che sono in pensione, quindi sono tutti i professionisti che hanno una grande professionalità ed esperienza. Certo, e quindi anche nomi conosciuti, questo mi sembra un aspetto rilevante insomma, perché il valore del professionista è dato anche da questo, dal suo curriculum ma anche dalla riconoscibilità. Lei per tanti anni, dicevamo, è stato responsabile della radiologia dell'ospedale di Agordo, ma ci sono anche altri nomi rilevanti e molto conosciuti in ambito sanitario locale. Molti medici ospedalieri sono stati responsabili di reparti ospedalieri di Belluno, Feltre ed Agordo. Noi ci teniamo a mantenere nel nostro pulimoratorio persone, professionisti locali, perché sono professionisti conosciuti e di buona professionalità. Accennavo prima, dottore, ai tempi d'attesa. I tempi d'attesa per una prestazione sono minori rispetto al settore pubblico? In media in quanto tempo possiamo ipotizzare di avere una visita da uno specialista del poliambulatorio? Uno dei lati positivi delle strutture private è senza dubbio la velocità nel rispondere alle esigenze, quindi i tempi d'attesa sono tempi d'attesa brevi o relativamente brevi, dipende poi dal tipo di specialità. Il poliambulatorio Gordino, per chi non lo sapesse, è situato in un'area strategica della Gordino, ovvero la zona industriale della località Balcozzena, proprio nei pressi dello stabilimento Luxottica. Questo per voi è stato un vantaggio, è un vantaggio oppure forse un limite? Allora, il nostro poliambulatorio insiste in un locale nuovo, molto ampio e situato proprio in vicinanza della Luxottica. Chiaramente la vicinanza della Luxottica e la collaborazione con la Luxottica ci ha notevolmente favorito. Pensiamo soltanto al welfare Luxottica, quanto ha influito nell'attività del nostro poliambulatorio. In realtà sappiamo che tutti i dipendenti Luxottica, dopo i 40 anni, vengono sottoposti a delle visite preventive, che sono diverse e questo ha determinato un notevole implemento del lavoro del nostro poliambulatorio e di questo siamo grati alla Luxottica e a quelli che dirigono il welfare Luxottica. Mi sembra quindi di capire che c'è una proficua collaborazione fra la vostra struttura e il Colosso dell'Occhialire di Agordo. Sì, diciamo che la collaborazione è iniziata fin dall'inizio, pian pianino, e poi con il welfare la collaborazione è sicuramente decuplicata. Certo, e per i dipendenti Luxottica, logicamente un servizio di qualità nel poliambulatorio, anche logisticamente, devono fare pochi metri per accedere alle cure specialistiche previste dal contratto welfare di Luxottica. Ci può dare qualche novità per il futuro in questo senso, per il welfare o altre attività che avete in servo a voi nel poliambulatorio? Allora, intanto c'è una grandissima comodità per i dipendenti della Luxottica. È chiaro che i dipendenti della Luxottica che vengono nel nostro poliambulatorio per le visite programmate dal welfare, se si trovano bene, ritornano anche per altri motivi. Questo per noi è un valore aggiunto. Per quanto riguarda la collaborazione con il welfare Luxottica, sì, ci sono delle cose che sono in programma, in fieri, però non sono ancora stabilite. Per quanto invece riguarda le novità del nostro poliambulatorio, in realtà noi abbiamo tutte le specialità, o quasi tutte le specialità, quindi in questo senso non abbiamo novità in previsione. Però c'è una novità di cui mi fa piacere parlare, ed è quella dell'implementazione dell'attività infermieristica. La nostra intenzione è quella di creare un ambulatorio infermieristico in seno al poliambulatorio. Ci sono tante persone che hanno bisogno di assistenza infermieristica, ma forse la cosa migliore ancora è quella di prevedere un servizio infermieristico territoriale. Cioè che gli infermieri vanno a casa del paziente? C'è una grande esigenza in questo senso. Il servizio infermieristico territoriale è già esistente, però fa fatica a far fronte alle richieste. Per cui abbiamo pensato che il poliambulatorio possa anche associarsi al servizio già esistente, collaborare con questo e offrire un servizio migliore a tutti quanti. Servizio infermieristico territoriale pubblico intende? Il poliambulatorio vuole integrare quindi questo servizio pubblico? Desidera integrare il servizio già esistente pubblico. C'è una previsione per quando inizierà questo tipo particolare di servizio? I primi abboccamenti sia con i medici di base, con i farmacisti, sono già stati avviati e abbiamo trovato un risponso positivo in questo senso. Ma lo fate perché c'è stata richiesta da parte dell'utenza o perché intuite voi, in base alle vostre analisi e alle vostre strategie, che possa funzionare questa tipologia di servizio? Guardi, l'esigenza sicuramente c'è perché le voci ci sono arrivate, però diciamo che la nostra politica è quella di anticipare i bisogni della popolazione. In questo senso abbiamo visto nell'implementazione del servizio infermieristico una cosa che era utile, necessaria e non rimandabile. È ipotizzabile, dottore, questo tipo di servizio anche a livello medico che lo specialista possa andare a casa del paziente oppure di più difficile realizzazione? Questo è senz'altro di più difficile realizzazione. Ecco, prima ci ha detto che nella vostra struttura sono presenti tutte le specialità mediche, però anche delle altre specialità che in qualche maniera sono correlate a quelle mediche, per esempio la fisioterapia, giusto dottore? Esattamente. Perché questa scelta? Dunque la fisioterapia è una medicina molto richiesta. Nel nostro poliambulatorio c'è un ambulatorio di fisioterapia, ci sono due fisioterapisti relativamente giovani con buona esperienza, sia per quanto riguarda il recupero, sia per quanto riguarda l'aspetto sportivo. E sottolineo questo perché la fisioterapia del nostro poliambulatorio si serve di una palestra che è presente nello stesso stabile, molto attrezzata, sia dal punto di vista degli spazi, sia dal punto di vista delle macchine. Per cui l'attività dei fisioterapisti può far conto anche su questa grande e importante palestra. Certo. Dottore, ci accennava prima, riuscite a coprire tutte le specialità. C'è qualche medico che una duplice figura magari per una specialità in particolare, perché c'è una maggiore richiesta da parte dell'utenza? Ci sono dei medici, come il sottoscritto per esempio, che cura l'aspetto radiologico ed ecografico, ma che cura anche altri aspetti, per esempio l'ozonoterapia e la iononisonanza ciclotronica. Ecco, ozonoterapia e iononisonanza ciclotronica, forse sono anche poco conosciute, siete fra gli unici, fra le poche strutture sanitarie private che praticate queste due tipologie. Vogliamo partire dall'ozonoterapia? Ci spiega che cos'è l'ozonoterapia e che cosa cura l'ozonoterapia? L'ozonoterapia è una medicina convenzionale che si basa su protocolli elaborati da società scientifiche nazionali e internazionali, protocolli che sono vidimati dal Ministero della Salute, quindi si tratta di una forma di medicina che risponde a quelle che sono le esigenze del medico, del metodo scientifico che si usa normalmente per le pratiche mediche. È una medicina giovane, relativamente giovane, è comparsa in Italia da circa 25-30 anni, non di più, quindi per quanto riguarda la medicina, i tempi sono molto brevi. È una medicina di conseguenza poco conosciuta, sia tra la gente, sia anche tra i professionisti medici. In realtà questa medicina si basa sull'uso dell'ozono. L'ozono è un gas presente nella nostra atmosfera e forma nella nostra atmosfera una specie di scudo che ci difende dai raggi ultravioletti solari. E questo già ci dice quale può essere la bontà dell'ozono stesso. Probabilmente tutti hanno sentito parlare del buco dell'ozono e sanno che il buco dell'ozono può portare dei problemi di salute, soprattutto dal punto di vista dermatologico. Quindi forse siamo portati il buco dell'ozono ad avere un concetto negativo dell'ozono, invece lei ci fa capire che non è così. Che cosa cura l'ozonoterapia, dottore? Ecco, l'ozono è un, come dicevo prima, è un gas che ha molte proprietà. Ha un potente potere antibatterico, non c'è batterio che resista all'ozono. Noi sappiamo che uno dei grossi problemi della medicina attuale è l'antibiotico resistenza. Ecco, in futuro sicuramente quello che mi aspetto è una sinergia tra terapia antibiotica e ozonoterapia, soprattutto laddove la terapia antibiotica potrebbe fallire. Non solo ha un potere antibatterico potente, ma lo stesso ozono riesce a debellare nello stesso modo sia i virus sia i funghi. Tanto è vero che l'ozonoterapia è stata curata in diversi ospedali italiani nella pandemia del Covid con buoni risultati. Ma i buoni risultati dell'ozonoterapia si hanno anche nei disturbi Long Covid. Ricordiamo che una persona su 8 che ha avuto il Covid può avere dei disturbi e delle conseguenze tipo Long Covid. Dicevo, ha un potere antibatterico, antivirale, antimicotico, ma è un potente antinfiammatorio, è antidolorifico, è miorilassante, è anti-edemigeno, quindi va bene in tutte le patologie osteoarticolari, muscolotendinei, ma è anche un immunomodulatore. Quindi va molto bene per le malattie autoimmuni, è un potente reologico, favorisce la circolazione del sangue, quindi va benissimo in tutte le patologie nelle quali la scorrevolezza del sangue è compromessa. Pensiamo ai problemi venosi e ai problemi arteriosi. Ma insieme alle terapie più semplici, più banali, come possono essere le terapie articolari, la rombosciatalgia, la cervicobrachialgia, eccetera, l'ozonoterapia può essere usata in sintonia con le terapie ovviamente normali, ecco per patologie degenerative. Teniamo presente che la medicina ha buoni risultati nelle forme acute delle patologie, meno nelle patologie croniche. L'ozonoterapia invece subentra in queste situazioni. Ci sembra di capire, dottore, mi scusi, siamo quasi in conclusione, ci sembra di capire, essendo una terapia che non è bene farla in una sola occasione, c'è anche una visita propedeutica per capire se può essere giusto curare con l'ozonoterapia? Certo, prima di iniziare una terapia con l'ozono, il medico deve visitare i pazienti, spiegare come funziona l'ozonoterapia e prospettare una terapia adeguata. Dottore, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, dobbiamo ancora parlare della iono-risonanza ciclotronica, ma se è d'accordo lo faremo eventualmente in un'altra occasione. Grazie a dottore Cesare D'Arbo, grazie a voi tutti per il gentile ascolto e arrivederci alla prossima occasione. Grazie a tutti.